E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto Io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare un rapidissimo Morning With Crypto Andremo a vedere un paio di notizie che ho selezionato per voi nella notte Dopodiché andiamo a vedere i principali gainers, losers di CoinMarketCap E un rapido sguardo a quella che è l'action notturna del grafico di Bitcoin Perché abbiamo visto una candela molto importante Andiamo a approfondire insieme sul finale del video Ma come sempre prima di partire il mio invito è quello di lasciare un bel mi piace Iscrivervi al canale col click sulla campanellina Qualora non l'aveste ancora fatto E noi partiamo dalla prima news Prima news che in realtà va a evidenziare come Avevamo anche già parlato un po' ieri di tutto ciò Ma che con la migrazione dei miners che ormai è abbastanza chiara Verso gli Stati Uniti Verso comunque altri paesi al di fuori della Cina Ha portato a essere il mining Bitcoin più eco-friendly Rispetto a prima Quindi se in Cina appunto l'energia era scarsamente rinnovabile Quella utilizzata Oggi lo è maggiormente Questo a mio avviso è un po' una linea che va ad attaccarsi un po' a quello che abbiamo visto ieri sera Sulla conferenza di questa sera Soprattutto perché anche uno degli speaker Ho visto ieri su Twitter Ha commentato dicendo Potremmo parlare anche di environment Che è legato a Bitcoin Quindi attenzione perché sono tutte quelle situazioni molto particolari Che possono tornare a girare velocemente Quindi io consiglio sempre di tenere una campanellina d'allarme questa sera In ogni caso appunto vediamo che i dati parlano abbastanza chiaro Cioè che ora il 17% di tutto il Bitcoin mining è fatto in Nord America E almeno il 50% di esso utilizza energia rinnovabile Prima in Cina era il 65% Più del 65% dell'hash power derivata dalla Cina Appunto l'energia rinnovabile non era così elevata Questo a mio avviso fa ragionare molto Soprattutto su tutto quello di cui si è discusso nell'ultimo periodo Un'altra news che è quella che un pochino ieri ha fatto un po' il giro dei social Ed è quella appunto che l'Europa ha in piano di bannare Quelli che sono gli indirizzi di cripto anonimi Allora ne ho sentite in giro un po' di tutte e di più Allora il discorso è uno Se si utilizzano dei checks è normale che questa tipologia di ban può essere eseguita Ok? È ovvio Perché vanno regolamentati questi checks E su delle regole AML Poi si va a selezionare quelli che sono gli indirizzi che non vanno bene Quindi questo è importante da comprendere Però allo stesso modo è importante capire che Diciamo che queste normative non vanno a reprimere quella che è l'attività A mio avviso del retail Ma vanno a punire quelle che sono le attività di entità Che vogliono utilizzare le cripto per scopi malevoli Ok? Per scopi di riciclaggio di denaro Per scopi di reati finanziari Ok? Quindi non va a toccare la libertà a mio avviso Poi è un'idea personale Di quello che è La libertà di un settore Se uno non vuole passare da un checks Può tranquillamente fare ciò che vuole È normale che passando da un checks Si vada a essere normati maggiormente Quindi la normativa parla più che altro in questi termini Per quanto riguarda invece i principali gainers Delle 24 ore troviamo un ottimo rimbalzo di Thrun Dove aver perso la mente tanto Sta recuperando Quindi settimana è ancora un meno 28 Ma avevamo visto una settimana ieri Un meno 45, meno 47 Quindi molto bene per Thor Poi abbiamo Axie Infinity Che anche lui rimbalza in maniera molto aggressiva Perché è tornato sui livelli di 18 dollari Il suo tema è sui 29 addirittura Però aveva dato indietro tanto Troviamo Compound, Quant, NEM Polygon, 0.75 Troviamo Flow, più 12 Troviamo FTX, più 11 Troviamo tanti nomi che hanno rimbalzato bene Nella giornata di ieri E allo stesso modo Per quanto riguarda i losers Troviamo Riven, meno 10 Troviamo MEDEX, in pieno downtrend, meno 2 Clayton, meno 2 E poi troviamo le Stablecoin Quindi in realtà la giornata di ieri Nella giornata nelle 24 ore È complessivamente positiva Ed è un po' quello che abbiamo visto dal grafico Ora questa è la dominance Che vedete mantenere ancora questa media qua Però a livello di Bitcoin Stiamo andando a mettere una candela molto importante Allora, step numero 1 Stiamo recuperando i 30.000 dollari Ok, siamo andati a 30.700 Quindi step psicologico molto importante Lo stiamo recuperando Se riuscissimo a chiudere una candela Oggi verde sui 31 Sarebbe un engulfing bullish Perché abbiamo recuperato tutto Il candelone rosso di ieri E abbiamo chiuso in positivo Quindi recuperato Sarebbe un ottimo segnale Comunque di domanda locale Ok? Questa sarebbe la prima interpretazione Però voglio farvi vedere ancora Per collegarmi a quello che ci siamo detti più volte Guardate da dove arriva tutto ciò Arriva da una fase di lateralizzazione Che è durata tutta la notte Tutta la notte Ok? Fino alle 5 del mattino Per poi arrivare Volumi bullish Tre volte i volumi Tre, quattro volte i volumi Del candelo orario precedente Che ci ha spinto, proiettato Subito sopra i 30.000 Ok? Questo è importante da capire Perché sono A mio avviso Collegato a L'analisi on-chain Delle situazioni molto Molto strane No? Perché andiamo a valutare Delle accumulazioni Questi sono dei buy molto forti Ok? Ora vedremo Vedremo Secondo me con la conferenza di oggi Dove arriverà col prezzo Magari non succede nulla Magari ne succede Nell'evento negativo Non lo possiamo sapere Però Personalmente Non mi interessa troppo Quello che accadrà in queste ore Perché aspetterò le 18 di questa sera E sarà lì Molto interessante vedere La reazione del prezzo Quindi Quindi Cosa fare ora? Ora io terrei un'operatività molto flat Ok? Sarà molto interessante anche capire Quante entità saranno in long E quante in short In quel momento Perché si potrebbe avverare degli short squeeze Anche Ricordatevi che quando sono tutti short Ok? E si va a mettere una bella miccia La miccia prende fuoco Poi se Scattano gli stop degli short O le coperture degli short È normale che si arriva A fare dei candeloni Molto forti Ok? Perché il mercato è over leveraged Quindi ricordatevi sempre questo In ogni caso Dovremmo aspettare questa sera Quindi noi ci aggiorniamo questa sera Con una bella puntata Appunto dedicata a questo Come sempre Se questi contenuti vi piacciono Vi invito a lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale Con un clic sulla campanellina Per rimanere sempre aggiornati Noi ci vediamo appunto questa sera Con l'aggiornamento dell'analisi tecnica E vedremo un po' come andrà Questo shock O meno Sul mercato Ancora una volta Vi auguro una buona giornata A tutti E appunto A più tardi Ciao ragazzi